Ciao amici, benvenuti alla presentazione della mia ultima opera. È un cucciolo di Labrador, interamente realizzato con colori ad olio su una tela 50x50. Lavorare con i colori ad olio è un procedimento lungo e complesso. È sicuramente la tecnica più difficile per un pittore. Richiede diversi anni di studio e di applicazione. Ho iniziato a definire le forme del soggetto con le ombre e con le luci. Poi ho steso in diversi strati i peli dell'animale, intrecciandoli tra loro con diversi passaggi. Ho applicato poi delle velature di colore. Sono degli strati trasparenti o semi trasparenti che servono per dare brillantezza ai colori stesi in precedenza. Ho cercato di renderlo nel modo più realistico possibile, mettendo in risalto la dolcezza del suo sguardo, che sembra guardare il suo padrone come in attesa di qualcosa. Lavorare con i colori ad olio richiede diverse giornate perché ci sono dei tempi di asciugatura che bisogna rispettare. Solitamente, quando realizzo un quadro ad olio, nel frattempo lavoro ad altri soggetti, proprio per non avere dei tempi morti. Per il fondo ho scelto un panna molto chiaro, steso in modo piatto, che va a richiamare i chiari delle zone intorno agli occhi, intorno al muso, in alcune parti delle orecchie. Come sempre elimino il fondo. Mi piace che sia monocromatico e che l'animale sia l'unico protagonista dell'opera. Se questo video vi piacerà, mettete mi piace, seguitemi sui canali social, trovate il link della pagina Facebook e Instagram in descrizione, iscrivetevi al canale di YouTube e se volete vedere l'intera collezione degli animali, collegatevi sul mio sito www.tizianassano.com Ciao! 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 Grazie a tutti. Grazie a tutti. Grazie a tutti.